ciao in questo video ti parlo del perché ho lasciato erba life e non mi ci sono più dedicato se è la prima volta che mi vedi mi presento velocemente sono lorenzo ciscetti sono nel network marketing dal 2006 ho scritto questo libro libero con network marketing il metodo pratico con cui sono passato da bancario a costruire un business a 6 cifre allora se stai guardando questo video è perché o sei già in erba life o magari stai valutando di entrare in erba life e quindi stai prendendo le tue informazioni per fare le tue considerazioni e io sono stati in erba life per qualche mese qualche anno fa e ho maturato queste considerazioni anche parlando con dei colleghi esperti che ci sono stati capire perché è fondamentale per te vedere questo video perché ti sia che sei dentro sia che stai cercando ti aiuterà a fare delle considerazioni importanti che ti seguono per che ti servono per il proseguo della tua carriera allora inizio col dirti prima considerazione che erba life è un'azienda veramente di livello è un'ottima azienda è la seconda per fatturato a livello mondiale è un'azienda veramente organizzata e io ho un'altissima stima per per questa azienda ok i prodotti sono di ottima qualità e il focus è rivolto sulla perdita peso e questo è fondamentale per guadagnare perché sulla perdita peso le persone sono disposte a spendere c'era una frase famosa che le persone mettevano in un cartellino o avevano anche delle spillette in cui scrivevano vuoi perdere peso chiedimi come questa è una cosa simpatica l'altro aspetto è importante un altro aspetto positivo è che è famosa e conosciuta anche positivamente grazie al fatto che investe tanto nei testimonial uno fra tutti è cristiano ronaldo questa la rende conosciuta e accettata chiaramente dalle dalle persone andiamo a vedere degli aspetti negativi un po meno positivi il primo è che è conosciuta anche qualche volta o spesso in modo negativo magari per persone che nel corso degli anni non si sono trovate bene con i prodotti o perché magari hanno avuto dei distributori sono entrati in contatto con dei distributori che gli hanno rotto le palle per tanti anni anche con dei metodi un pochino un pochino aggressivi l'altro aspetto è che è conosciuta quindi è da tanto tempo in italia mi sembra circa 30 anni veramente tanto tempo e praticamente è conosciuta da tutti il fatto che è molto conosciuta a livello di opportunità la può rendere un pochettino meno appetibile ok tra l'altro chi guadagna tanto nelle posizioni di rilievo sono solitamente quelli che hanno iniziato all'inizio e comunque gente che ha iniziato anche 10-15 anni fa e quindi non è una di quelle opportunità che le persone non conoscono se tu chiedi in giro conosci Herbalife vuoi avere informazioni su Herbalife il 99% delle persone ti diranno che la conoscono già che hanno già utilizzato i prodotti o ne hanno avuto in qualche modo esperienza l'altro aspetto è il sistema di lavoro il sistema di lavoro che viene insegnato o veniva insegnato fino a pochissimo tempo fa era principalmente offline cioè i maggiori leader credevano che l'online fosse una perdita di tempo per questa ragione non c'è una vera e propria cultura del network marketing online anche adesso con questa situazione che è capitata quello che dicono è chiama le persone invitali in zoom che gli presentiamo l'opportunità cioè sono passati dagli alberghi agli zoom perché non ci si può muovere ma non c'è una cultura strategia tecnica su come generare contatti con internet e in particolare i social media io ritengo che in questo periodo e anche la mia esperienza che io uso facebook ormai dal 2007 dal 2012 2013 in modo un pochino più pesanti dal 2015 ancora in modo più pesante ancora per generare contatti ogni giorno dai social media adesso le persone che ottengono più risultati nel network marketing i contatti li generano a iosa tramite il lavoro che fanno con i social media facebook instagram e adesso arriva anche tiktok quindi dal punto di vista dal metro del metodo di lavoro per me è fondamentale lavorare online mentre qua avere ancora non per l'azienda ma per i leader che hanno che sono leader importanti da tanto tempo non si sono avvicinati in modo pesante ancora in modo importante al lavoro online e per riuscire bisogna essere assolutamente bravi online e questo io insegno alle persone che lavorano con me e alle persone che mi seguono a crearsi i contatti con internet e con i social media facebook instagram e tutti quelli che verranno ok io intanto ti chiedo di seguirmi su questo canale perché settimanalmente metterò dei video importanti per quanto riguarda il network marketing trovi sotto i miei contatti social facebook instagram e i miei siti dove potrai avere formazione gratuita sotto a questo video ciao e ci vediamo al prossimo video